Il corso non è molto tecnico perché qui c'è buona manualità, ma in velocità non si fa uno stampo più nuovo, non è male, non è male, lo sapete, lo puoi capire come si fa il montaggio. Poi c'è questo stampo qua che è uno stampo, sopra di una gottina di gallicino, con un'unità di policarmonacido, e le pappi sembrano a volte, sopra la 15 euro. Comunque, come vedete di prima che avete ricordato, comunque è una cosa che si fa, con il corso di corno, non lo facciamo bene, non lo facciamo bene, vi mettete questo, una patina, vediamo che io ho fatto il passaggio, poi io ho fatto il passaggio dopo, pure il respire, io ho fatto un po' certi segni, e poi per ogni 5 minuti, ovviamente, se tu non mi hai fatto una monta, e tu non mi hai fatto una monta, e tu non mi hai fatto una monta, e tu non mi hai fatto una monta. la tutta è più For your free land I want to check the transport I want to check the meter And your dreams And your reason And your riot And your hatred I want to check the transport I want to check the meter And your dreams And your reason And your right And your hatred I want to check the transport I want to check the meter And your dreams And your reason And your riot And your hatred I want to check the transport I want to check the meter And your dreams And your reason And your riot And your hatred 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 And your hatred